Archiviate le elezioni, si riprende a parlare di come l'Europa sarà per le nuove generazioni, quelle che non hanno conosciuto tangentopoli e i gettoni telefonici. In poco più di 30 anni di Erasmus è nata davvero una generazione europea? E come la pensa? E' questa trasformazione sottile della percezione dell'Europa. Quali cambiamenti ha portato? E quali porterà? Chi sono i protagonisti della generazione Erasmus? Se volete scoprirlo, seguiteci in questa puntata di Protestantesimo, in onda su Rai 2 domenica 2 giugno alle 8.30 del mattino, poi in replica a 1.50 della notte tra lunedì 3 e martedì 4, e infine domenica 9 giugno a 1.15, dopo la domenica sportiva, sempre sulla seconda rete Rai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.